La città, in altri anni, c'è stato questo periodo che aveva, diciamo così, come ho finito, delle pappali militari, da parte dei Lugianesi, da essere un paese occidentale, militari assolutamente. A Pappali, andavano, andavano, vedevano le città, le vedevano a contigo, le vedevano, vedevano i tribunali, da parte dei cinchi anni, ma restano le vedevano, vedevano le vostre ieri, e ora restano i suoi don pensando per TEAC. Grazie. 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 Eh, sei venuto in primo piano. Ma forse ci metto una base musicale dopo. Sì, non adesso so. Ma questo cos'è? No. No. Romagnolo Filippo. Ah, questo è nello specifico il plastico della struttura qui, eh? Quindi il castello, le terme... Sì, è la zona dello zoo. Arrivo, eh? ...instead di sport, di city, questo... ...qu'è la prima? ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.